che soddisfazione quando stipuli un atto notarile tutto va per il meglio e soprattutto chiedi ai tuoi acquirenti di farti una recensione per sapere come si sono trovati col servizio che ha il loro offerto è il caso di maurizio martina eccoli per il presento ecco siamo dal notario abbiamo appena finito la stipula dell'acquisto di maurizio e martina della loro casa quindi chiedo a loro come si sono trovati con l'agenzia elena rocchetto compravendite immobiliari è un'ottima persona consigliatissima da tutti ci siamo trovati bene ci ha spiegato tutto anzi anche in anticipo è stata gentilissima molto professionale me la consigliamo quindi diciamo che loro hanno trovato questa casa e si sono innamorati subito quindi si sono legati in ufficio e hanno ovviamente ricevuto prima tutte le informazioni per capire esattamente che cosa stavano comprando che cosa e cosa soprattutto a cosa dovevano andare incontro comunque rassicurati perché alla fine tutto era fattibile abbiamo fatto tutto il nostro iter compreso il mutuo e quindi ad oggi siamo arrivati di conseguenza si parte con la nuova avventura ristrutturazione e poi verrà a bere un caffè a questo punto così vedremo anche subito al freddo ottimo grazie vi auguro il meglio nella vostra nuova casa ciao grazie mille ciao ciao